Eccoci con mister Zaccagnini, sconfitta prima in campionato, quattro secondi di gioco, è già 1-0 per la San Benedettese, poi cosa è successo? È successo che la Roma è brava, sono bravi giocatrici, non sono bravi proprio lo stesso, sono qualcosa di poco esperto, abbiamo regalato tre golli e hanno vinto la partita, noi siamo tutti gli sfattissimi della nostra squadra, abbiamo giocato veramente alla pari con la Roma. Era uno sconto al vertice, è vero, era ancora la sesta di campionato, l'obiettivo però per la sua Samb? No, noi siamo una squadra del giovane, l'obiettivo è di fare sempre meglio, questo non cambia il nostro lavoro che stiamo facendo quotidianamente, non cambia solamente. A me i ragazzi sarebbero bravissimi, tanto è buon lago, la Roma è sempre un sombrale, loro non stanno insieme da tanto tempo, loro non mi hanno vinto il campionato, No, noi no, però quello del giovane è ancora lungo, è lunghissimo. Grazie mille mister, alla prossima!